Il mese di settembre per i musei nazionali è il mese delle giornate europee del patrimonio, un evento ormai apprezzato e atteso dai visitatori che vede anche quest'anno i musei archeologici nazionali di Chiedi, direzione regionale Musei d'Abruzzo, impegnati con aperture straordinarie e serali al costo simbolico di un euro. Le cosiddette GEP quest'anno sviluppano il tema del patrimonio in cammino. In tale giornata si va a collocare un evento altrettanto importante. Nel settembre 2024 ricorre infatti il novantesimo anniversario del ritrovamento del reperto che più di tutti ha rappresentato e rappresenta l'Abruzzo nella sua dignità e fierezza, il Guerriero di Capestrano. Il convegno dal titolo Il Guerriero di Capestrano fra i tali cetruschi e l'Europa con testi e modelli a confronto si è svolto all'auditorio Uncianfarani del Museo archeologico La Civitella e prende le mosse dal ricordo di quel mese di settembre del 1934 quando un contadino di Capestrano trovò casualmente dei resti di una statua in pietra mentre lavorava all'impianto della sua vigna. Il contadino negli anni è diventato un nome conosciuto agli amanti del Guerriero Michele Castagna. Ascoltiamo Massimo Sericola, direttore dei musei archeologici e nazionali di Chieti. Questo fine settimana è il fine settimana dedicato alle giornate europee del patrimonio, un'iniziativa del Consiglio d'Europa che porta appunto a concepire e realizzare manifestazioni di valorizzazione e di divulgazione del patrimonio culturale. In questa occasione ricorrono anche i 90 anni dal rinvenimento del Guerriero di Capestrano, la scultura più significativa, più identitaria dell'intero patrimonio culturale abruzzese e un pezzo fondamentale della scultura preromana. Al Museo La Civitella di Chieti proponiamo appunto una giornata di studi in cui i massimi esperti della statuaria italica e dell'archeologia italiana ed europea in generale discutono e dialogano sullo stato dell'arte rispetto agli studi e alle ricerche sul patrimonio statuario e il patrimonio archeologico abruzzese. Diciamo che sul Guerriero di Capestrano si è detto di tutto di più anche che provenga da un altro pianeta. Si è detto di tutto ma questo fa parte, è proprio una caratteristica specifica dei reperti archeologici particolarmente significativi, particolarmente evidenti, particolarmente identitari. Attraggono attenzione, attraggono le attenzioni di più diverso tipo e quindi noi rispettiamo le opinioni di tutti, le ascoltiamo, poi lasciamo anche la parola agli studi e alle ricerche scientifiche.